Ancora pochi giorni per visitare negli spazi della società Tetis, all'arsenale di Venezia, la mostra di Giovanni Canova Materia e Memoria, una personale curata da Ferruccio Scabbia che raccoglie i lavori di questo giovane artista veneto che oggi vive e crea le sue opere nella campagna slovacca. Oli su tela, ma anche plastiche, materiali di scarto e di rifiuto che l'autore recupera dal processo produttivo, trasformando, rielaborando e donando loro nuova dignità. Giovanni Canova è un artista padovano di 36 anni che noi abbiamo il piacere di ospitare nei nostri spazi e mi piace proprio far rappresentare la sua mostra da questo lavoro che è interessantissimo e che in qualche modo rispecchia proprio la sua filosofia e anche la sua poetica. Possiamo anche vedere che in qualche modo è costruito come una sorta di biografia, inizia dall'anno della sua nascita, tutti i battoncini in qualche modo sono legati alle sue esperienze di vita fino ad arrivare a un anno particolarissimo in cui esperienze molto importanti nella sua vita, di un incidente, di una conoscenza dell'amore, diventa il fulcro di quello che è stato proprio il suo cambio di poetica quasi. In Cardia, questo è il titolo dell'opera, il futuro invece è bianco, ricoperto da una colata di cera e dunque ancora tutto da scrivere.